bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi non siamo né su clash royale non siamo né su ross ragazzi siamo su barbacu 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 siamo ragazzi su questo giochino che sembrerebbe davvero molto interessante da cominciare a portare anche nelle sessioni di live streaming di questo canale perché ragazzi perché barbacu effettivamente reincarna bene un giochino tranquillo simpatico e divertente e allo stesso tempo con la possibilità di giocare in multiplayer fino a nove persone contemporaneamente chi ha seguito qualche live speciale serale speciale speciale serale su barbacu avrà visto sicuramente che giochiamo davvero in tanti e tra l'altro ci sono anche tantissimi italiani ragazzi che giocano a barbacu io lo vedo lo vedo spesso e la cosa mi fa veramente un sacco un sacco piacere ma che cosa sono qua xyuder cosa cacchio fai qua oggi ragazzi finalmente oggi volevo farlo con voi volevo farlo in un video registrato oggi ragazzi creerò la gilda ragazzi andiamo a creare il clan e quindi facciamo bisogna fare bisogna fare così aspetta fare come lo zio senno zio senno c'aveva il cappello fa i want you yes yes i want you ragazzi se volete entrare nella gilda mi raccomando vedremo nei prossimi passaggi qual è il nome come si farà non lo so neanche io per creare una gilda ragazzi su barbacu bisogna andare nella parte in basso dove c'è il bottoncino scritto guild e come vedete ci sono un po di gilde già fatte ragazzi ma abbastanza spopolate noi siamo già in tantissimi io vi vedo che siete in tanti che seguite le live e quindi porca di quella porca potremo essere abbastanza competitivi allora andiamo su create io il nome ce l'ho già in mente ragazzi il nome ce l'ho già in mente fatemi vedere se mi fa mi fa cliccare what's happened ok ok la gilda ragazzi si chiamerà così gli sbabbari allora ragazzi nome della gilda gli sbabbari guild signature vediamo guild signature allora la 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 guild signature sarebbe la come si dice la il motto il motto della gilda allora gilda gilda ufficiale no sins perché si fa sins dal allora allora sins oggi che giorno è oggi che giorno è oggi che giorno è porca di qua porca oggi è 25 febbraio sins 25 sins 25 0 2 17 gilda 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 ufficiale di xuder in live in live su youtube su youtube ogni giorno 14 21 14 porca vacca gilda allora sins 25 2 17 5 2 17 in live ogni giorno ore 14 slash 21 ok ragazzi allora need no approval to join the guild direi che invece serve invece l'approvazione serve l'approvazione andiamo ragazzi a cambiare a vedere un pochettino perché c'è un po' di roba da fare c'è tutto il banner da cambiare allora banner 1 questo carino ma vediamo cosa ci propone banner 2 molto molto interessante abbastanza abbastanza morbido da vedere banner 3 mi sembra più da soldati banner 4 non mi piace carino banner 6 bello anche questo no il banner 2 mi piace il banner 2 mi sembra mi sembra più interessante totem non so cosa sia ah il il logo centrale totem 2 questo è un rinoceronte con la coda albina vabbè siamo gli sbabbari siamo gli sbabbari e dobbiamo ovviamente avere come logo lo sbabbaro decorazione 1 sono le corna sono le corna allora l'osso carino carino però non lo so le ali direi che non mi interessano questi sono funghi allucinogeni non mi piacciono neanche questi le corna muschiate sono carine le cornina le cornina più da barbaro mi piacciono il colore del banner vediamo carino giallo blu non mi piace viola non mi piace rosso è molto carino questo è un color pietra non mi piace verde niente da fare è bello anche giallo eh ragazzi però penso che andrò sul rosso e poi totem color 1 ah sta cambiando il colore centrale del coso vabbè bianco viola no che colore è questo questo sembra bianco così ragazzi sì direi che questo può essere il logo della nostra nuova gilda 300 gemme e andiamo guild name perché contiene caratteri illegali cosa stai dicendo ma cosa stai dicendo ma siamo gli sbabbari scusa qual è il tuo problema sbabbari no scusa sbabbari e contiene caratteri illegali ri scusami cosa vuoi ma perché non posso me scusami un attimo scusami un attimo questo non doveva succedere sbabbari sbabbaro sbabbari ma perché ri non me lo posso fare ma scusami ma scusami cioè allora 16 caratteri massimo e allora come caspita si fa adesso a fare la gilda e porca di qua porca no dobbiamo essere gli sbabbari 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 no ri non lo vuole ma scusa ma scusa ma dai ma dai ma cos'è caratteri legali a guild signature non il nome la signature allora sbabbari 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 senza la c senza la sbabbari si con la c con la c allora niente qua la guild signature la togliamo la faremo più avanti allora ma hai rotto le palle allora sins allora sins ma che fatica sins 25 0 2 17 no non posso mettere gli slash sins 25 allora dal facciamolo in italiano dal 25 febbraio 2017 gilda ufficiale di xuder in live su youtube ogni giorno giorno vediamo se va ma quale cazzo è il problema ma guild name non posso creare la g guild name non posso creare ma perché ma perché ma scusatemi scusatemi ma io lo posso fare sbabbari ma perché contiene caratteri illegali ri siamo gli sbabbà guild signature dal 25 febbraio 2017 qua non puoi avere problemi però 2017 ma quali sono i caratteri illegali che contiene scusami 25 così oh l'abbiamo creata l'abbiamo creata ragazzi siamo gli sbabbà ma dai deve essere sbabbari dai dimmi che posso cambiare posso cambiare sbabbari 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 no 200 200 200 no dai ma che schifo ma che schifo ma perché dovrò spendere quelle 200 gemme per andare a modificarle 25 25 l'abbiamo creata l'abbiamo creata 25 febbraio 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 2 ma perché deve essere difficile fare le cose febbraio 2017 2017 vediamo se ce la fanno prendere questo ovviamente ovviamente non ce lo faceva prendere 25 febbraio 25 febbraio 2017 in live su youtube tutti i giorni giorni ok ma porca di quella porca 25 febbraio appena che siamo nel 18 25 siamo già nel 2018 25 febbraio 25 25 febbraio 2018 ok no non possiamo ammettere 25 febbraio 2018 va bene fa niente allora ragazzi la teniamo così momentaneamente la teniamo 25 mi fa cagare allora aspetta clan gilda ufficiale facciamola così ufficiale di xuder dai così me lo devi prendere ma perché è illegal character ma non vuoi gli spazi cos'è che non vuoi gilda ufficiale di xuder au no allora ragazzi vedete cosa vi dico che qua stiamo rovinando ci facciamo prima di salutare no 11 minuti di video no direi che ci fermiamo qua ragazzi se volete se volete entrare nella gilda ragazzi si chiama sbaba sbaba eccola qua ragazzi non si sa bene cosa voglia dire ragazzi fra poco arriveranno anche le guild war quindi ragazzi per adesso è tutto stato un po' un casino siamo gli sbaba siamo gli sbaba se volete entrare ragazzi non so neanche come è fatto facciamo che non serve no facciamo che serve l'approvazione serve l'approvazione serve l'approvazione ok così me lo dite lo vediamo anche in live anche e poi ci cominciamo a creare il nostro clan beh ragazzi io vi ringrazio per essere stati con vedere questo video un po' incasinato ma spero vi siate divertiti noi ci vediamo presto ciao ciao